La fiamma della speranza per un tour che vuole diffondere lo spirito di vicinanza alle popolazioni coinvolte in ogni scenario di sofferenza provocato dalle guerre. E la Torcia della Pace è arrivata questa mattina a Pescara ad accoglierla a San Cetteo Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. La torcia è partita il 21 dicembre scorso dal comando del carcere di Milano in collaborazione con l'Avis. Gli agenti della Polizia Penitenziaria stanno attraversando tutta l'Italia in bicicletta. Il viaggio della speranza si concluderà il 15 maggio in piazza San Pietro a Roma. La torcia ci è stata consegnata dai colleghi della Casa Circondaliare di Chieti. Adesso faremo un piccolo giro in città e ci dirigiamo verso il carcere di Sulmona. E dopo da Sulmona credo all'Aquila? Sì, da Sulmona andranno all'Aquila e dopo di che nelle Marche verso Ascoli. Sull'iniziativa questo è il pensiero della direttrice della Casa Circondaliare di San Donato di Pescara, Lucia Di Felice Antonio. La Fiaccola della Pace sta facendo il giro di tutti gli istituti d'Italia, un'iniziativa della Polizia Penitenziaria. Nel caso di Pescara a questa iniziativa si affianca una raccolta di una donazione quindi da parte sia della popolazione detenuta che del personale che lavora all'interno. Quindi stiamo raccogliendo cibo, vestiario, medicine, cibo per i bambini in particolare e speriamo che questo segno di pace accompagni il mondo e tutti noi in questo momento. E poi in collaborazione con la Caritas il materiale raccolto giungerà in Ucraina. E quando si completerà questa raccolta? La prossima settimana, siamo in fase di conclusione.